Sono lo Sport Avventure e la Galleria Nazionale dell'Umbria i veri vincitori delle ferie ferragostane in Umbria. Se il Museo regionale tocca quota 871 biglietti nel solo giorno di Ferragosto, una delle novità del turismo nel cuore verde d'Italia, il ponte tibetano di Sellano, ha contato dal 23 marzo scorso, giorno dell'inaugurazione, 25.000 ingressi con una stima di 60.000 presenze sul territorio e un boom in questi giorni del ponte di Ferragosto. Dalla Valnerina al Ternano, complice il caldo torrido, i 9.000 hanno scelto il 15 agosto la frescura della Cascata delle Marmore, l'attrazione da sempre più gettonata dell'Umbria. Eppure ci sono luoghi meno noti e meno frequentati che hanno delle potenzialità ad oggi inespresse per la loro capacità di unire sport, natura e storia. Siamo a Gubbio, lungo l'acquedotto medievale, un vero e proprio gioiello architettonico a suo modo unico nel genere, realizzato nel XIV secolo per captare le acque della gola del Bottaccione e condurle dentro le mura della città. Oggi, anche grazie ad un restauro che lo ha reso percorribile in sicurezza, è un sentiero che si sviluppa per circa 1.600 metri sulla costa ripida del Monte Ingino, ad una quota altimetrica tra i 600 e i 575 metri. Da qui si gode una vista mozzafiato sulla gola e sulla città medievale, un luogo straordinario per amanti fotografi o appassionati di trekking. Soprattutto c'è chi ne approfitta per far finalmente delle foto che non servono a nulla, solamente avere il piacere di farle. Lo passo con gli amici, ma in serenità, tranquillità, senza nessuna pretesa. Un giorno come gli altri, in pratica soltanto un pochino meno senza i pensieri e poi con questa passeggiata mattutina che ovviamente distende proprio lo spirito e il cuore, perché Gubbio è bellissima. Camminammo, fammo il posto per mangiare. L'acquedotto medievale accompagna il visitatore fino alla zona sommitale di Gubbio, nell'area del Duomo e oggi di Palazzo Ducale, un tempo palazzo comunale, prima del suo trasferimento più a valle. Una passeggiata tra nature d'arte che a Ferragosto ha accolto tante persone del luogo, ma ancora pochi turisti, per la verità, ignari di tanta bellezza. Buongiorno al posto!